Le meduse non le dovete ammazzare, fanno bene al mare e sono anche bellissime e se vanno a riva per esempio buttatele nell'oceano così ci metteranno una vita ad andare nella riva ed è anche pieno di sei cuccioli che ne ho visto appena uno ma non so, e ne ho appena toccato anche uno è pieno di sei cuccioli e non questa meraviglia